Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Lodiamo il Signore con le parole del Salmo 147 della liturgia del venerdì della quarta settimana. Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, che viene dal cielo. Alleluia. Glorifica il Signore Gerusalemme. Loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana. Come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo, chi resiste. Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo. Non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amo. Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme che viene dal cielo. Alleluia. Cari fratelli e sorelle, oggi, 8 maggio, per tradizione, in molte chiese, e nel mio dioce si credo in tutte le parrocchie, si recita alle 12 la supplica alla Madonna di Pompei, la Madonna del Rosario. Ed è per questo che oggi voglio soffermarmi proprio su questa immagine, la Madonna del Rosario. È una tela pregevole che si trova nella concattedrale di Ascoli Satriano ed è firmata Paolo de Matteis, un grande pittore napoletano, datata 1708. Fu commissionata per la cattedrale di Ascoli dal vescovo Francesco Antonio Punzi, che guidò la diocese ascolana dal 1685 al 1728. Noi siamo abituati alla immagine della Madonna del Rosario di Pompei, è entrata nel nostro cuore e quindi sappiamo bene come è raffigurata la Madonna del Rosario. Maria su di un trono che tiene sulle ginocchia Gesù e entrambi donano a San Domenico e a Santa Caterina da Siena una corona del Rosario. Bene, la tela di Ascoli Satriano, come tante altre del Rosario, è più ricca di particolari, è più discorsiva. Vediamo anzitutto che la postura non è rigida come quella di Pompei, ma c'è grande movimento nelle figure, il bambino sembra quasi spiccare il volo e mentre dà la corona a Santa Caterina da Siena mette sul capo di Santa Rosa da Lima una corona di rose, quindi abbiamo un'altra santa accanto alla Vergine al bambino e poi dall'altro lato San Domenico. E infatti l'Ordine Domenicano, fondato dal santo di Guzman, che si è fatto particolare propagatore della devozione al Rosario. Questa devozione che ormai attraversa tutta la vita cristiana, è presente in tutto il mondo ed è una preghiera semplice, profonda, meditativa, contemplativa. E Maria e Gesù donano un Rosario, ma se noi andassimo a vedere i particolari di questo quadro vedremmo ad esempio che nelle bandelle del ricco Baldacchino che lo copre sono raffigurati i misteri. Perché il Rosario non è la semplice ripetizione di Ave Maria, è invece la meditazione dei misteri di Cristo. E voglio soffermarmi su questa preghiera prendendo spunto dalle parole di San Giovanni Paolo II, un Papa che è stato caratterizzato da una grande devozione a Maria. E nel 1982 ha scritto una lettera, la Rosarium Maria Virginis, con la quale ha spiegato il Rosario e ha aggiunto anche ai tradizionali quindici misteri, altri cinque, quelli della luce che noi meditiamo il giovedì. E io voglio far riferimento a questa lettera per due motivi. La prima, voglio spiegare perché la ripetizione delle Ave Marie. La ripetizione è tante volte un'obiezione rivolta soprattutto da chi è più giovane, da chi pensa alla preghiera come qualcosa che debba coinvolgere in modo particolare la creatività, l'intelligenza, come se la ripetizione, la ripetitività questo non lo facesse. Tante volte si dice è una preghiera ripetitiva per cui ecco chissà se è gradita al Signore. E Giovanni Paolo II scrive questo, parole che non hanno bisogno di commento. La meditazione dei misteri di Cristo, badate i misteri di Cristo perché sono tutti misteri cristologici, la preghiera nel Rosario è una preghiera cristologica. La meditazione dei misteri di Cristo è proposta nel Rosario con un metodo caratteristico, atto per sua natura a favorire la loro assimilazione. È il metodo basato sulla ripetizione. Ciò vale innanzitutto per l'Ave Maria, ripetuta per ben dieci volte ad ogni mistero. Se si guarda superficialmente a questa ripetizione si potrebbe essere tentati di ritenere il Rosario una pratica arida e noiosa. Ben altra considerazione invece si può aggiungere ad avere della corona se la si considera come espressione di quell'amore che non si stanca di tornare alla persona amata con effusioni che pur simili nella manifestazione sono sempre nuove per il sentimento che la pervade. E il Papa fa quindi riferimento alla ripetitività delle espressioni di amore che un amato rivolge alla sua amata e viceversa. E poi ecco fa riferimento anche ad un brano biblico, quello dell'incontro di Gesù con Simone. Per ben tre volte Gesù chiede a Simone mi ami tu? E Simone risponde tre volte signore tu sai tutto tu sai che ti amo. E scrive il Papa al di là dello specifico significato del brano così importante per la missione di Pietro a nessuno sfugge la bellezza di questa triplice ripetizione in cui l'insistente richiesta e la relativa risposta si esprimono in termini ben noti all'esperienza universale dell'amore umano. Per comprendere il rosario bisogna entrare nella dinamica psicologica che è propria dell'amore, la dinamica dell'amore, ripetere parole che indicano affetto. E il Papa ci invita, mi voglio soffermare un po' di più, a meditare bene il mistero. Il mistero dice bene che sia annunciato e seguito dalla proclamazione di un passo biblico, ad esempio l'annunciazione, si leggono pochi versetti del brano dell'annunciazione. Poi scrive il Papa è opportuno che dopo l'annunciazione del mistero e la proclamazione della parola per un congruo periodo di tempo ci si fermi a fissare lo sguardo sul mistero meditato prima di iniziare la preghiera vocale. La riscoperta del valore del silenzio è uno dei segreti per la pratica della contemplazione e della meditazione. Dopo l'ascolto della parola e la focalizzazione del mistero è naturale che l'animo si innalzi verso il Padre. Gesù in ciascuno dei suoi misteri ci porta sempre al Padre, a cui egli continuamente si rivolge perché nel suo seno riposa. Nell'intimità del Padre egli ci vuole introdurre perché diciamo con lui Abba Padre. E poi ci sono le dieci Avemarie, dice il Papa, è l'elemento più corposo del Rosario e insieme quello che ne fa una preghiera mariana per eccellenza. Il baricentro dell'Ave Maria quasi cerniera tra la prima e la seconda parte è il nome di Gesù. Talvolta nella recitazione frettolosa questo baricentro sfugge e con esso l'aggancio al mistero di Cristo. Per questo già Paolo VI ricordò l'uso praticato in alcune regioni di dare rilievo al nome di Cristo, aggiungendovi una clausola evocatrice del mistero che si sta meditando, ad esempio la risurrezione del frutto del tuo seno Gesù risorto per noi. E poi si prosegue con la seconda parte dell'Ave Maria. E infine il Gloria al Padre e il traguardo della contemplazione cristiana, la dossologia trinitaria. Cristo è la via che ci conduce al Padre nello Spirito. È importante che il Gloria, culmine della contemplazione, sia messo bene in evidenza nel Rosario. Quanta ricchezza in questa preghiera che Giovanni Paolo II definisce semplice e profonda. Per questo ecco con voi voglio meditare quest'oggi il mistero della crocifissione di Gesù e lo mediteremo seguendo il consiglio di Giovanni Paolo II. Intanto giro la pagina sul particolare bellissimo di questa tela di Paolo de Matteis. Contempliamo il mistero della crocifissione e morte di Gesù. Gesù, stendendo le braccia sulla croce, riconcilia il cielo e la terra e dice Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo Esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clementi, o pia, o dolce vergine Maria. Regina del Sacratissimo Rosario, prega per noi. Il Signore sia con voi, sia con voi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Vi ricordo che molte comunità parrocchiali oggi alle ore 10.30-11 iniziano il Rosario e poi alle 12 recitano la supplica. Siete invitati a collegarvi con le vostre comunità parrocchiali. Noi faremo il ponte dalla chiesa di Pompei che si trova ad Ascoli Satriani. Buona giornata a tutti.